Avevamo preso un impegno ben preciso sotto campagna elettorale, oggi mi sembra che lo rispettiamo, è uno dei tanti maggiori servizi per quell'area. Completiamo un'infrastruttura che manca da decine e decine di anni, che ha reso davvero difficile l'attività ordinaria di tutte le aziende, di tutte le attività produttive che sono site in via Piaggio. Quindi un estendimento importante che consentirà di avere tutta la rete del gas presso queste aziende. I costi totalmente gratuiti per il Comune di Chieti, di cui si fa carico l'azienda concessionaria, che è la Due Rete i Gas, che ringraziamo anche per altri interventi che a proprie spese sta effettuando con nuovi allacci presso altre zone della città. Vice sindaco, quando partiranno i lavori? I lavori sono già in corso, già ci sono delle aziende che hanno preso contatti con la Due Rete i Gas e sono iniziati già in via Piaggio, peraltro al termine di questi lavori l'azienda si farà carico anche del manto stradale su tutta via Piaggio. Parliamo di oltre 20 aziende, tra cui aziende leader a livello nazionale e internazionale, come la Valter Tosto, ma come tante altre aziende molto importanti, tante attività produttive molto importanti della nostra città e della nostra regione.